la fiamma della passione può bruciare all'improvviso tu non sei venuta per uccidermi può travolgere le convenzioni legagli le mani può trascinare nella perdizione fermi al sparo può sconvolgere una vita come vivrai senza scrupoli senza scrupoli venerdì alle 20.30 su Odeon De Agostini presenta I Maestri della Musica un nuovo grande repertorio classico per la prima volta in compact disc I Maestri della Musica tutta l'emozione di una grande orchestra nella perfezione del suono digitale I Maestri della Musica in edicola sole 12.500 lire il primo fascicolo e due compact disc la terza la settima e l'ottava sinfonia di Beethoven dirette da Furtwender anche a cassette a 8.900 lire una grande proposta di Agostini you must remember this a kiss is still a kiss a sigh is just a sigh the fundamental things apply as time goes by and when two lovers woo they still stay hard to hear ingegnere il western non temere straniero lo chiamano baleno baleno fa tutto il baleno tutto il baleno per questo lo chiamano baleno oh bella bravo baleno brava Nelson la liquidizia naturale pura la liquidizia naturale pura la liquidizia naturale pura luna freddo questa scelta con una Pringers Telephone, l'orologio di chi ama la strada.